La controsalsa. Cos'è la controsalsa? Fra, ma che è sta controsalsa di cui spesso ci parli? Vabbè, se avete fatto una ricerca su Google e non avete trovato niente, direi che ci sta. Perché? Perché controsalsa è un termine che mi sono inventato io. Lo uso da tanti anni, nella mia testa c'è una sua motivazione. Poi in realtà non è che faccia parte del gergo, non è che ci sia la varola sul dizionario, quindi non avete trovato niente e non preoccupatevi, non è che non siete capaci di fare ricerche e che non c'è niente. Va bene. Allora, che cos'è una controsalsa? Io ho una pasta, questa pasta è cotta con una sua salsa o condita con una sua salsa, per esempio la pasta col pomodoro, per dire. Poi, la pasta in questo caso è girata, o magari la salsa è poggiata sopra, e io ho una seconda salsetta, in quantità minima, che metto sopra ancora, senza girare. Lo scopo di questa salsa qual è? È quella di fare in qualche modo contrasto con la prima. La chiamo controsalsa proprio perché gioca a contrasto rispetto all'altra, quindi non sarà mai una salsa al pistacchio con una salsetta ancora pistacchiosa. Sarà viceversa una salsa, per esempio al pistacchio, perché la salsa vera e propria, quella in abbondanza, è al pomodoro o a qualcos'altro. Questa cosa io l'ho spiegata per la pasta, ma vale per tante altre cose. Per esempio, vale per il risotto. Io faccio un risotto, per esempio, al gorgonzola e ho una salsa, una controsalsa alle noci o alle nocciole, che metto sopra per creare, come dire, delle alternanze di sapore nel mio piatto. Va bene, Francesco, ci sono anche altri esempi? Sì, ce ne sono altri. Per esempio, a volte io faccio un brasato, faccio il brasato alla birra, facciamo un esempio, poi ho una controsalsa che lascio scivolare sopra il brasato una volta che questo è nel piatto, che è fatta qualcosa di diverso. Per esempio alla cipolla. Naturalmente poteva essere l'inverso, il concetto non cambia. La cosa importante è che si contrastino, che non siano sullo stesso tema. Perché? Perché se no non è una contro. Nella mia testa. Va bene. È una cosa che si fa? Sì, si fa. Non è che si debba fare per forza. Cioè, uno si può mangiare la pasta al sugo, col suo bravo sugo al pomodoro girato, se la mangia così è buonissimo, niente di male. Però se ti piacciono i contrasti mentre mangi bocconi diversi dello stesso piatto, la controsalsa, come la chiamo io, è una delle possibilità che tu hai. Ancora una volta, saluti, baci, abbracci e ci sentiamo al prossimo giro.